Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di un mondo in cubi Ragazzi sono appena tornato da una bella gita nella miniera E guardate un po' ho ottenuto veramente un casino di ferro Ne ho qua oddio un bel po' di stack Che andremo subito tutti quanti a sprecare Ho preso pure quello che avevamo nelle casse E sprecare tra virgolette perché dovevo fare un casino di hopper Esatto sto per fare E meglio ho appena fatto un casino di hopper Addio è stato un colpo al cuore fatto di questi hopper Mamma mia perché 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 oddio devo riprendermi Ok mi sono ripreso perché mi sono ripreso Perché abbiamo raggiunto i 600 iscritti ragazzi Sì sì cavolo sono troppo contento Grazie a tutti ragazzi Veramente veramente un grazie speciale a tutti qua C'è una croce lassù Non l'ho fatta io ragazzi Non è una croce Vabbè Comunque Lasciando perdere la croce che resterà penso là per sempre 600 iscritti Che ho fatto questa nostra struttura Perché questa struttura non so se ve ne siete accorti Ma ogni volta per i retti Per la cantina Per il tavolo Per l'incudine Per quello che ho visto per far vedere Per il meccanismo di autokilling Per tutto Subisce sempre delle modifiche E noi stiamo cercando di migliorare sempre più Anche le casse che abbiamo spostato Un sacco di cose Comunque ho fatto questo È molto semplice Un pistone Con attaccato Un padello di vetro E una leva Perché almeno riuscivo a controllare al meglio L'esperienza Infatti Un utente Nei commenti Mi ha scritto che Tutte quelle esperienze Sembravano mosche E Probabilmente Probabilmente mi hanno visto come una cacca Mi hanno Invaso Comunque Qua Ho fatto 26 hopper E Sì Con 26 hopper Potrei già cominciare a fare un po' di smistamento Ma non lo farò Perché Prima di cominciare con lo smistamento Vero e proprio Devo parlarvi Di un'altra cosa Adesso io vado a far vedere Aspettate Poso giusto Dov'è Qua Questo E qua Questa cosa qua Ok E Andiamo subito a vedere il perché Allora praticamente Sentivamo Degli zombie Mentre appunto Lavoravamo nella nostra stanzetta Dello smistamento E Appunto ingrandendola Come pensavo Guardate cosa è successo Ho No no Non c'è un dungeon Tranquilli Ho incontrato Tra virgolette Ho incrociato Una caverna Esatto Qua infatti ho con me E anche il mio No Non ce l'ho più Avevo con me Avevo con me Il mio Fedelissimo piccone Con fortuna Che Beh Non utilizzo Adesso No Mi servirebbe veramente O non mi serve Mi serve o non mi serve Mi serve Vado a prenderlo Perché appunto In questo episodio Andremo a minare Ragazzi Andremo a minare E Perché appunto Siamo anche un po' Cioè lo so che sono appena tornato Off camera Però volevo anche registrare Una bella minata Perché comunque Cioè È stato bello Il lavoro che ho fatto Off camera E di appunto Del raccogliere minerali Quindi penso che Questo Lo farò insieme a voi Così appunto ci divertiremo Tutti insieme Che bello Allora Prendiamo un bel piccone Con fortuna Ok Perfetto E si può partire Allora piccone con fortuna 190 utilizzi Questo qua ne ha Ancora 250 Sì infatti Indicativamente Il piccone di ferro Ha 250 Utilizzi E Quello di diamante Invece ne ha tipo 1500 Qualcosa del genere Giusto per qualche informazione Che alcuni di voi Alcuni di voi Potrebbe interessare Ok Mangiamoci Un pezzettino di carne Ok Qua cominciamo subito A raccogliere Questo carbone Vi prometto che Questo sarà l'unico Che raccoglierò Perché altri Beh l'unico Si sarà l'unico Dai il resto Lo raccoglierò io Off camera Perché so che Io che raccolgo Il carbone Veramente è una cosa Cioè ci può stare Ancora raccogliere Un po' di ferro Un po' di oro Un po' di qualsiasi altro Minerale Off camera Ma non il carbone Lo so che lo detestate E Quindi adesso Raccoglio solo questo E vi faccio dire Solo che con Una Mini venatura Di carbone Abbiamo già tenuto Uno stack Per farvi capire Altro carbone Accogliamolo Non scherzo Non lo farò Non picchiatemi Aiuto Ok E Come appunto La caverna continua E si riunisce All'altra In superficie Cosa molto strana E riscende di nuovo E qua Quando sono andato qua Ho deciso di registrarlo Insieme a voi Perché guardate Cosa c'è Qua dentro Beh a parte i creep Perché Sono bellissime Per carità Però anche se non ci fossero Sarebbe bello Lo stesso la caverna Anzi Ho con me Il mio fedele secchio No 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 Basta Basta Bastardo Ecco Che volo L'ho fatto fare Quello zombie Erba Stupido zombie Che Hai l'erba Nella caverna Le zombie Sono dei tossici Quindi Tan 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 Ok basta Allora Qua c'è Tanta Caverna L'erba Nella caverna La lascerò Per sempre C'è qualcosa di epico L'erba Nella caverna Proprio come se ci fosse La vita Il La vita di minecraft Nelle caverne Ok Detto questa cazzata Abominevole Andiamo di qua E vediamo Andiamo di qua Lo dico sempre Logicamente Quanto si L'ho scavato Io sto buco Non mi sembra Uh qua c'è il ferro Beh questo vale Logicamente Non col piccone Con fortuna Ferre per favore Ma col piccone Con efficienza E indistruttibilità Il piccone del lavoro Raccogliamo il ferro Là c'è un creeper No Qua è un baby zombie È decisamente un baby zombie Aiuto Vieni quanto li odio i baby zombie Sono pericolosi Sono pericolosi Qua c'è Si esce già in superficie Ok abbiamo finito ragazzi Quindi io vi saluto E al prossimo video No sto scherzando ragazzi Allora Ehm Carbone Lo raccolgo No ferre non farlo Ok scusate Allora Andiamo a raccogliere Qualcos'altro C'è qualcos'altro A raccogliere però Se non ci fosse Adesso stiamo Per prendere Una delle nostre delusioni Più grandi Vero Non c'è niente di qua Ah no Ah no Non ano Ano Allora c'è Ano Ano o ano Oddio Cosa sto dicendo Basta Qua la caverna Si decisamente Qua la caverna continua Dopo aver parlato di ani Ma Qua la caverna finisce di nuovo E siamo pure nel nostro biomo Della savana Fantastico Però rientriamo Perché io Devo stare nelle caverne Cioè rientriamo in caverna Non in casa In caverna Allora Prendiamo questo bellissimo ferro Il ferro lo prenderò Logicamente Anche perché ce ne serve Tantissimo Perché ho deciso Che combinerò Il ferro Che appunto Raccolgo io col ferro Che ci dà la fame di ferro Quindi veramente Arriveremo Ad avere Delle dosi gigantesche Ho visto un creeper Più che l'ho visto L'ho sentito Creeper del cavolo Ci hai provato Uccidermi ma non ce la farai Ok Scegliamo giù di qua Oddio Ok La caverna è finita Allora Prendiamoci Altro ferro Tatatatata Comunque avete visto Che dietro la ghiaia C'era altro ferro Devo resistere Non ho raccordato Questo carbone Eh lo so La tentazione è forte La tentazione è forte È troppo forte La tentazione Riuscirà a resistere Ferro Alla tentazione Del carbone No Non ci riuscirà mai Allora No ma guardate qua Andiamo a minare Anche un po' di A minare Tra virgolette Un po' di legno Della giungla Perché lo voglio Legno della giungla A tutti i costi Opla Aspettate ma qua c'è un'altra caverna E beh non vedo perché non esplorare pure questa no Tanto ormai Ok ragazzi rieccoci scusate l'interruzione ma Quando uno registra La legge prevede la legge italiana Che tutti vado a rompere le scatole Oddio Perché Perché Non è giusto Altro ferro però Il ferro è giusto E cosa No non lo dico perché lo dice anche Surreal Questo poi E' vero Quindi poi anche voi No 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 Oddio Dio mio Eeeh Tutte caverne Cioè caverne e le caverne No Ragazzi Perché Io adesso non resisto Non posso non scendere fin là sotto A vedere cosa c'è Perché là secondo me ci sono dei diamanti anche Opla Qua cosa c'è Qua non c'è niente C'è una caverna Che ti trolla e ti riporta indietro Grazie caverna che mi trolli Sei troppo simpatica caverna Comunque ragazzi Se qualcuno di voi si tac Chiedendo perché sono così iperattivo in questo episodio Perché ho mangiato un cucchino Oh mio dio Stupido pollo Ne hai fatto prendere una Cioè ragazzi mi spavento per i polli Adesso ci faccio lo screenshot No Cosa sto facendo Ci faccio Lo screenshot Volevo farlo così Aspettate Pollo Guardami Pollo Tan 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 Il pollo più spaventoso del mondo Ok Anche le torce Vengono a mancare E quando Mancano le torce Oddio Quando mancano le torce Facciamo Degli stick Opla 44 stick Tac Quante ne ho fatte Scusa Non volevo farne così tante Allora Guardate Io ancora la Aiuto Il pollo Aiuto Ok basta Allora Prendiamoci il nostro carissimo ferro Ok Ehm Vi consiglio Quando siete nelle caverne Di Aspettare che arrivi la notte Se adesso prenderò Ancora un po' di carbone Perché comunque mi sale per le torce Lo so Avevo promesso che Però devo prenderlo Non è che ci posso fare tanto E allora Appunto Vi voglio dire Che quando andate in caverna Vi consiglio di andarci di notte Perché di notte Perché di notte Si spawnano mob Anche in superficie Quindi automaticamente Visto che c'è un limite Tra virgolette Di mob Che si possono spawnare In certe aree Se ne spawneranno Meno in caverna Logicamente È una cosa minima È una differenza minima Quella che ci sarà Però Almeno che non abbiate Delle farm Che funzionano solo Quando c'è il sole Vi consiglio di fare così Come vi dico io Nel frattempo Qua stiamo scendendo In pochissimi secondi Ad altezza Oh dio Ma questo qua è un cratere Di quelli enormi Ci porta dritti Dove c'è il resto Guardate Siamo ad altezza 12 11 Cioè ragazzi Noi siamo arrivati Entrando in sta caverna Ad altezza diamante Entrando in sta caverna Porca miseria Comunque Adesso pensiamo Piuttosto A tappare A tappare L'acqua Che è invasiva Ecco Acqua 6 Troppo invasiva Adesso raccogliamo la redstone Ok I like redstone I like redstone I like redstones Ok Magari togliamo F3 Fantastico E Oro Oro Qualità oro Oddio Ho fatto pubblicità A un marchio Non vuoi Non dovete dire niente Perché altrimenti Poi mi denunciano Per aver Sponsorizzato Il caffè Ecco Allora Cosa sto dicendo Cioè ho mangiato Un cucchino di nutella Prima di cominciare Questo episodio Non ho fatto nient'altro Bah Sarà il cucchino di nutella Magari contiene tipo Ipercaffeina Possibile Credo di no Perché è troppo buona Allora Raccogliamo pure questo ferro Risaliamo ancora Oddio Oh altro ferro Anche qua No Era terra No E' ferro E' ferro E' ferro o terra E' ferro E' ferro o terra E' terra o ferro E' ferro Ok E' decisamente ferro Questo cos'è Oddio Non riesco a capire Che cavolo ho In mezzo A Gli occhi In mezzo Alle gambe Ecco Oddio Dopi sensi No Non scrivete Dopi sensi In chat In chat In commenti Cosa sto dicendo Basta Allora Risaliamo Con calma Perché altrimenti comincio a sparare Il pollo L'avete visto? E' là che mi aspetta E' là che mi aspetta Quel pollo Oddio Quello là Aiuto Calmati Non ti farà del male Almeno che tu non lo provochi Allora Diamo calmi Oddio Devo rompere Quel cubetto Perché farò una mossa tattica Tipo Opla No Tipo Opla No Muoviti No Perché? Allora rompiamo un po' Questo cubetto qua Ok Mossa tattica Ok Perfetto Mossa tattica Andata a buon fine Oddio Questo qui non è un pollo E' scoppiato lo stesso Quell'infame Eeeh Ancora uno Ancora uno Grazie mille Oh L'uovo del pollo Ehi Aiuto E' la mia arma questa Dai provaci Fatti sotto Quanti cavolo ce n'è Prendi questo Ma No Aiuto 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 Ok Manteniamo La calma Allora Ce ne sono altri Vero? Perché ci sono tutti Sti rani Non capisco Andate via Non vi voglio Via Via Andate via Maledetti Qualc'altra caverna? Oddio Ragazzi Quello sto facendo Aia Ferro Ferro Carbone Che adesso raccoglierò Quindi ferro Quindi ferro Ferro Grazie mille Tiziano ferro Poi Altro tiziano ferro Eccolo qua Poi Vediamo un pochettino Se c'è dell'altro Ferro O meglio tiziano ferro Oddio basta Qua la caverna Si ricollega Altra erba Nelle caverne Questa erba Nelle caverne Non l'ho capita Molto Poi me la spiegate Comunque Ciao Ciao michetto Come stai? Tutto bene? Ma lì stai proprio bene Lo sai No Cosa ci dicevo i pugni Che poi chiami i tuoi amici Oddio Allora Andiamo Oddio Ah no Pensavo fosse un canyon Mi spaventavo già Allora Andiamo di qui Andiamo di qui Scendiamo giù di qui Saliamo su di là Scendiamo giù Saliamo su Andiamo a destra Poi a sinistra Un rogno potenziato Stai lontano Maledetto schifoso Guardatelo lì Infame L'infame dura vendetta Allora calma Raccogliamo il ferro Che è importante Ok Il ferro è ben raccolto Mossa di parkour Più o meno Ho semplicemente camminato Ma va bene Per me camminare Non ho mossa di parkour Problemi? Ecco Allora andiamo di qua Andiamo di qua Andiamo di qua Lo dico sempre Andiamo di qua Ok ragazzi Ed eccoci Scusate l'introduzione Ma veramente È una cosa assurda Quando uno registra Ed è concentrato E rischia di prendersi Già degli spaventi assurdi A causa dei creeper Che sono sconsigliati Per la salute mentale Delle persone Arrivano poi le interruzioni Ok qua c'è la lava Qui stai attento alla lava Perché Han detto che è fredda È così fredda Che ti puoi bruciare Tappiamo l'acqua Scendiamo giù di qui No Scendiamo giù di qua Mettiamo la torcia lì E Prendiamo questo Questo ferro Quanto ferro Là Mi è sembrato di vedere Un mo Oddio Mi ero bagato in un blocco Oddio Minecraft fa impazzire Sì Ha già Causato vari decessi Allora Di qua Facciamo così Perfetto saliamo Oddio Allora Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Aiuto Qua c'è troppo oscurità Io ho bisogno di luce Luce Cosa vuoi Mamma mia Vai via Ok Allora Ma perché Bang 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 Basta Non c'è più nessun altro Che vuole Assaggiare le mie frecce In realtà Sono frecce di scheletri Perché le ho tutte rubate A scheletri Che ho ucciso Con la mia farm Yes Allora Andiamo di qui Un canyon Perfetto Un canyon Non è una cosa Così brutta Dai Invece si lo è No Che cos'è Quella farla Più in fondo Al canyon Ragazzi Se ho visto Una miniera Mi sparo Un colpo In testa Oddio Oddio Qua sopra È pieno di mob Sicuramente Oddio Qua c'è pure Della lava Canyon Lava Di tutto Di tutto Ragazzi In sto video Di tutto Polli che ci spaventano Mamma mia Allora Andiamo qua Illuminiamo tutto Ok Illuminiamo Andiamo di qua Illumina Illumina Tanto puoi fare uno stacco Per raccogliere tutto State tranquilli Mamma mia Oddio santo Lo so Dovevamo cominciare Lo sministamento chest In questo video Ma in realtà Siamo finiti qui Oddio Guardate quanta roba c'è Qua ci ricolleghiamo Giustamente al canyon Perché C'è un minimo di Geografia Anche in minecraft Geografia Più o meno Geometria Più che geografia Comunque Raccogliamo Raccogliamo questo ferro Ragazzi Nel frattempo Io credo che questo video Sia già venuto lungo Non voglio fare di video Troppo lunghi Come l'ultimo Che altrimenti vi annoiano Vi invito come al solito A lasciare un like Perché youtube è stronzo Perché in questo video Sono sclerato Mi ha pure spaventato Un pollo E quindi Io come al solito Vi ringrazio Spero che il video Vi sia piaciuto Vi invito a lasciare un like Perché youtube è stronzo L'oggetto Commentare Iscriversi E mettere mi piace La pagina facebook Perché tutti quanti Si dimenticano sempre Però esiste anche quella Ed è utile Perché quando io Magari un giorno Non faccio video Lì c'è scritto il perché Magari sono stato male Magari non ho potuto Fare qualcosa Per un motivo Non lo so Ma vi potete considerare Anche la seconda serie Sulla pagina facebook Potete anche chattare Con me Potete fare cosa volete Siete voi i capi E quindi Ho anche raccolto Il carbone Che non devo raccogliere Però Eh lo so Sono un monello Quindi Io come al solito Vi ringrazio Spero che il video Vi sia piaciuto E vi do appuntamento Al prossimo video Qua continuerò A raccogliere minerali Logicamente Perché altrimenti Nel prossimo video Non abbiamo ancora finito Raccoglierò un po' tutto Qua scendiamo ancora un attino Per vedere Se c'è altro Non c'è più nient'altro Quindi adesso Cominciamo a tornare indietro A raccogliere tutto Quello che abbiamo dimenticato Quindi io come al solito Vi ringrazio L'ho detto già tre volte Basta Basta Vi saluto E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti